cucciolati buongiorno e buona epifania a tutti e oggi è domenica 6 domenica 6 e sto qui al mare tanto per cambiare e oggi invece volevo fare un video su un regalo che ho ricevuto dalla mia dolce metà volevo iniziare a fare qualcosa con il drone non tanto per iniziare in ultima mare andava a spegne che ne so 3 4 500 euro 600 euro come ho visto per droni e magari sicuramente lo arso il primo schianto è il mio perciò avevo pensato anche lei comunque me l'ha regalato lei insomma sono felicissimo di questa cosa intanto però almeno per vedere come funziona poi piano piano più la vediamo un attimo di cambiare qualcosa di un po' più carino insomma tutto qua allora ragazzoli questo è il drone il drone è infreddato e inizierò adesso vediamo piano a leggere qualcosa e vediamo se riesco a iniziare a farlo almeno arzare insomma non se ci riuscivo ferruccio dai però vabbè io ci riesco a niente perciò io non voglio fare una recensione su quello che è solo per presentarvi quello che magari mi è arrivato tutto qua l'abbiamo 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 ma alla fine avrebbe fatto più una fine epica nell'acqua, almeno vi facevo vedere il video che il drone andava nell'acqua e piombava, però niente, c'è stato qualcosa che non è andato, questo drone non è andato più dritto, insomma c'è qualche trimmer da sistemare e quasi là, si è finito di sfornare in un nanosecondo, ma in più cosa bella, bella che per chiude in bellezza, mentre stavo a guardare il drone mi è cascato il telefono per terra e mi si è fatto un buco, perché questo drone ha il pezzo del telecomando col telefono che è sceso in fila dentro, insomma vabbè, ma da mezzo millimetro, insomma, che c'è il drone, buco, che scelta il telefono non si è rotto, buco nello schermo proprio, quindi vabbè niente, insomma oggi a danni siamo belli avanti, siamo belli avanti, anzi una giornata bellissima, non so come spiegabela, però è andato via il drone, niente, pure il telefono tra l'altro, invece niente, tanto per cambiare, è entrato, è entrato nel campere oggi, st'amico qui, ma lo faccio vedere, lui è Willy, ma lo sono ritrovato dentro al campere praticamente, vabbè, ecco, come dice ho l'aghi che è gelosissimi, gelosissimi, tiè, guarda quanto è buono, ma abbiamo intracciato il padrone, fortunatamente c'ho, c'aveva il numero di telefono sul, sul collare, e vabbè, sta a venire il piastro, invece c'ho, c'ho l'aghi che è geloso da morire, vedi, madonna, madonna l'aghi, madonna, ho capito, madonna, geloso, guarda, 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 i cani problematici, vabbè, non lo dico più, quindi ragazzi, chiudiamo qui questa esperienza con il drone, mi dovrò pure vedere su per giù quanto ci vorrei per il sistema a sto telefono, visto che sto fatto tutto con questo, e niente, aspettiamo il padrone di Willy, se lo vogliono riprendere nel frattempo, e via, ragazzi, ringrazio della visione, oggi è stata veramente una giornata intensa, intensa, ci vediamo ragazzi, vi mando un abbraccione forte forte, grazie della visione, bella.